Silenze del Tempo, 17, prima. Azione! Questo cortometraggio che stiamo realizzando qui è Beneva Genna, è un cortometraggio che possiamo realizzare perché abbiamo partecipato al bando CHAC della Regione Piemonte, un bando promosso dalla Fondazione Piemonte dal Vivo, dalla Film Commission Torino-Piemonte e dalla Fondazione CRT, un bando che vuole valorizzare i 10 luoghi nel Piemonte, di cui Beneva Genna è uno di questi, e per farlo, per poter valorizzare questi luoghi, siamo stati associati a una compagnia, nel nostro caso, di teatro e abbiamo costruito un cortometraggio che vuole essere un'allegoria di quello che è la dimensione del paese attraverso i canti di questa compagnia, che è una compagnia che fa una ricerca profonda sul canto, attraverso i suoni del paese, i silenzi e le varie location che vogliamo valorizzare di questo posto. Grazie.